Dunque, Assessore Manpetitti, reciprocità, capacità creativa, risorse, un bel esempio di economia delle relazioni oggi qui nella piazza dei Portici? Assolutamente sì, i valori del mondo cooperativo, la solidarietà, la mutualità, la capacità di rendere la cultura, il sociale, la presenza delle varie on-laws che sono qui, che hanno insieme alla COP costruito questo progetto, sono la testimonianza che progetti come questi sono fortemente radicati nel nostro tessuto rimbinese. Lo hanno testimoniato i tanti soci che danno fiducia al mondo cooperativo e lo testimoniano la qualità dei prodotti che viene garantito dagli stessi produttori. Credo che le istituzioni abbiano queste responsabilità, trasmettere fiducia, esserci in un momento come questo dove si parla di ripresa, di ripresa economica, di ripresa dell'occupazione e guardare al futuro, al futuro delle giovani generazioni. Questo è il ruolo che noi oggi vogliamo testimoniare con la nostra presenza e le tante famiglie, le tante persone oggi qui testimoniano che questa è una realtà ricca e importante per Rimini e per tutto il tessuto regionale. Grazie